Ciao a tutti, allora siamo al 23, vediamo un po' cosa abbiamo qua, continuo a rompere, no 23, ho sbagliato, è il 14, perché ho aperto il 23? Vabbè, quindi ho aperto il 23, il 14, ci mettiamo una bella scritta sopra che è il 23, e vabbè, pazienza, scrivo 23 qui, dopo lo scriverò meglio con qualcos'altro, vabbè, pazienza, ormai l'ho fatto, il danno è fatto, e facciamo questo, è il progetto numero 3, tanto i progetti sono messi a caso, non cambia niente, ci sono delle vexolo azzurre, delle mezze lune color ematite, mezzi cristalli da 3 color argento e delle 15 zero, sempre color sull'argento, bene, vediamo un po' cosa salta fuori. Ecco qua il risultato, vedrete che qui manca un mezzo cristallo, ebbene manca, perché sono stata molto furba, e praticamente ho rabaltato tutto quanto il vassoietto con tutte le perline, e adesso mi mancano le 15 zero, perché il mezzo cristallo l'ho recuperato, però le perline no, e quindi adesso ho bisogno di cercare di recuperarle, in qualche maniera, adesso opererò un po' di controllo del pavimento, il problema è che la scopa l'ho passata, e non sono stata in grado di vedere le 15 zero per terra, quindi può anche essere che siano rotolate per bene sotto il divano, non so che fine mi hanno fatto. E allora vi faccio vedere questo così com'è, e domani cercherò meglio con la luce per capire, e con l'aspirapolvere, con la calza, classiche cose, no? In qualche maniera riuscirò a tirar fuori le 15 zero, perché tra l'altro non so, penso sia un colore tipo un black diamond, per capirci, e io non ce l'ho, non ho niente che ci assomigli, e al massimo userò le silver line crystal per fare l'ultimo pezzettino, in teoria non se ne accorde nessuno, il fatto è che le volevo usare anche per fare il gancetto, e così è andata a finire che non l'ho fatto, perché in realtà questo è un bel modulino, è abbastanza stabile anche, io ovviamente non ho finito di ripassare, perché non ho finito, però appunto il problema è che io volevo fare poi anche un altro giro qui, sul lato esterno, che non so quanto bene si veda, andiamo, non si vede niente, vabbè, non importa, volevo fare un giro anche sul lato esterno, dove ci sono appunto le 15 zero, per fissare esternamente, e avevo pensato anche di aggiungere una obid o qualcosa del genere, perché ne ho in questo colore, tra l'altro di nuovo ho cambiato colore al half moon, lo so, fare come me è facile, perché ho perline di tutti i tipi a casa, infatti le half moon erano queste, io ho messo queste azzurre, perché sinceramente mi sembrava che c'entrassero meglio, ecco. Quindi niente, questo era il numero 23, perché come vi ho detto ho sbagliato, e quindi spero che potrò farvelo vedere completo anche questo, e spero di trovare le perline, perché ormai non ho più tante speranze, e niente, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutte!